Buonasera a tutti, prima cosa. Io certo non entrerò in un discorso economico perché non sono in grado di dare un contributo utile. Cerco di darvi solamente qualche indicazione dal punto di vista squisitamente tecnico. Allora, effettivamente la contaminazione della cromo esavalente che c'è nel terreno dell'attuale stabilimento Thyssen è tale per cui questo cromo, quando avvengono piogge o innalzamenti e abbassamenti della falda, viene riversato nella falda. Le ultime informazioni che avevo, citando i documenti che ha citato il professore prima, parlavano di 20 microgrammi litro come livello massimo. Io sono in possesso del piano di cui si parlava, il piano che è stato presentato da Arvedi il 29 di giugno di quest'anno. L'ultima cosa, e lo sto studiando, per cui non vi posso ancora dire, perché non mi sono fatto veramente, l'ho ricevuto ieri e quindi sono più di 500 pagine e ci sto lavorando sopra, ma non sono ancora in grado di darvi una cosa definitiva. Però vi voglio confermare delle cose, si sa del cromo esavalente dal 2009, è una contaminazione storica, ben nota. Ahimè il cromo esavalente purtroppo è una gran brutta bestia, nel senso che è una sostanza che una volta che ha impregnato il terreno, essendo molto solubile in acqua, tutte le volte che io butto dell'acqua su quel terreno si riscioglie e va giù, va giù, va giù, va giù, fino a quando arriva nella falda. Quello che vorrei dirvi, che però secondo me è importante anche nel contesto del discorso dell'esproprio, è che fino ad oggi, con una lentezza da goccia sulla pietra, Arvedi o comunque la proprietà non mi risulta da nessun documento si sia tirata indietro dal dovere di bonificare in maniera esplicita. Il piano di messa in sicurezza di emergenza del 2021 in effetti è stato portato avanti, hanno fatto tre campagne di trattamenti vari a questo terreno con l'obiettivo di portare il cromo esavalente a cromo trivalente, il cromo trivalente non si scioglie più in acqua e quindi rimarrebbe, diciamo, imprigionato nel terreno e non andrebbe più nella falda, non creerebbe più problema nessuno. Il cromo esavalente è solubile in acqua, trattandolo con una sostanza riducente si trasforma in cromo trivalente, il cromo trivalente non è più solubile in acqua e quindi sta lì, a meno che non percola più, rimane come un sasso, rimane bloccato lì come fosse un sasso, non è più solubile in acqua. Il problema è che in particolari condizioni questo benedetto cromo trivalente può ritornare a cromo esavalente e se ritorna a cromo esavalente ritorna a solubile in acqua e ritorna giù. Io lo dicevo la scorsa volta, purtroppo ormai ho una certa età anch'io, ma quando ho studiato io all'università di chimica si diceva che le falde inquinate da cromo esavalente non potevano venire in nessun modo recuperate perché il cromo esavalente non si riusciva a eliminare. Con questi trattamenti che si stanno utilizzando adesso probabilmente qualcosa si può fare, però vi racconto questo che è la cosa che mi preoccupa molto e cioè la messa in sicurezza di emergenza è iniziata nel 2021, è stata fatta una campagna di trattamenti nel 2021, è stata fatta una campagna di trattamenti nel 2022, è continuata nella prima parte del 2023, ma i livelli di cromo esavalente salgono, scendono e non arrivano mai ai livelli minimi richiesti per legge. Ora vedremo in quest'ultimo documento cosa avviene fuori, però il fatto che non sia finita la messa in sicurezza di emergenza come messaggio mi dice che l'obiettivo di arrivare ai 5 microgrammi litro non è ancora stato raggiunto perché altrimenti avrebbero detto, eh ora che abbiamo risolto il problema, ragazzi andiamo tutti a casa. Quindi temo che il discorso del cromo esavalente sia un argomento ancora aperto e vedremo questo piano se la messa in sicurezza operativa partirà, perché quello su cui io vorrei insistere che non dobbiamo più permettere, e la mozione della consigliera ravvinale è in quella direzione, non dobbiamo più permettere dilazioni. Cioè adesso questo problema, dopo tanti anni, e devo dire la verità che non riesco a spiegarmi come sia possibile, che per tanti anni nessuno si sia occupato, ma comunque dopo tanti anni adesso qualcuno, voi, al gruppo di consiglieri attuali dell'amministrazione ha preso a cuore questa situazione, questa situazione adesso non dobbiamo urlarla più e dobbiamo far sì che con l'esproprio, con Arvedi, con chiunque, ma che in un tempo ragionevole questo sito venga bonificato e poi sopra io mi auguro che si faccia un'estensione del parco della Pellerina, ma la cosa a cui tengo particolarmente è che si smetta di avere un inquinamento della falda da cromo esavalente, che è una cosa che non fa bene a nessuno. Questo è quanto avevo da dire. Grazie. Grazie. Grazie.